Cominciamo a ragionare un attimo sulla nostra nazionale italiana che ha fatto due partite, si è tolta un po' dai guai perché c'era finita nei guai, partiamo dall'Italia, poi dopo possiamo spaziare un po', però io direi che stiamo sull'Italia, andiamo nello specifico in generale, i gironi, facciamo gli esempi con le altre nazionali, però che percorso ha avuto in questi dieci giorni nella nostra nazionale? Dalla presentazione di Spalletti, che è stata una conferenza come sempre molto interessante, tra l'altro casualmente non eravamo d'accordo, però oggi siamo stati due ore e mezzo insieme da Mimmo. Ma con chi? Con Luciano. No, vero? Cazzo, mi fa piacere. Due ore e mezzo, era lì con la moglie e con la figlia, a mangiare in un tavolo, io sono arrivato, sono andato subito a salutarlo, ci siamo parlati un po' lì, dopodiché adesso ha detto compagno loro e poi torno da te. È tornato? È pestato due ore, è venuto al tavolo al posto di Bobo perché Bobo era andato via, quindi siamo rimasti con Silvio, con Max, fratello di Bobo. Abbiamo parlato due ore in totale libertà, confidenza, simpatia, ironia. Napoli, la nazionale, i giocatori, alcuni ricordi. Spettacolare, perché vivrà a Milano. Lui adesso sta a Milano. C'è un basso a Milano adesso? Sì, abbiamo fatto una scommessa che ha perso con me, ovviamente, e quindi abbiamo fatto una scommessa che ha perso, quindi io scelgo il posto, lui paga. Quando la faremo, basta pigliare la macchina, Anto. Ah, grazie, io ci sono. Quando vengo, ma con voi posso parlare 20 ore. Anzi, parlare no, devo ascoltare, perché tu lo sai cosa penso di te, che sei come Messi, come opinionista. Lucianone lo devo ascoltare. È fantastico. E io imparo, però l'allievo e so insieme al maestro, non che supra il maestro, che sei te. Comunque, ci vuole un bene che, vabbè, tu lo sai benissimo, il bene che ci vuole, che rimarca per quello anche che facciamo, la connessione tra il campo e il fuoricampo, cioè il lavoro dei protagonisti, in questo caso il suo, e quelli di altri, voglio dire. E la nostra comunicazione, secondo me, ha portato un momento storico veramente di cambiamento, ma questo lo sentiamo e lo percepiamo, ma anche di entusiasmo generale che crea un altro modo di vedere, questo l'abbiamo detto, ma quando stai con i protagonisti è ancora più bello. Sai perché? Perché c'è il confronto diretto ed è come un'alleanza non di opinioni, perché le opinioni possono essere diverse, ma di metodo e di ricerca. Arrivo a dirti quasi di rispetto del calcio. E questo è una cosa che si percepisce e viene continuamente rimarcata quando ci si connette, capito? Quindi il piacere di stare insieme. Tu hai detto una grande cosa, è una crescita, secondo me, reciproca, sia per chi fa il calcio da un ruolo che da un altro. Soprattutto a favore di chi? A vantaggio di chi? Della gente. Della gente. Perché da ruoli diversi si fa qualcosa per gli altri, per la gente. Perché deve sempre emergere la protezione, il rispetto e l'inalzamento dei contenuti del calcio. Sia che lo fa in un ruolo che in un altro. Quindi è molto, molto producente e, come hai detto te, permette di crescere. Veramente, il confronto è la cosa migliore. Quindi è stato bello e volevo dirlo, volevo condividerlo, stare insieme. E quindi, invece, andando un po' più nello specifico, Anto, i dieci giorni dell'Italia. Vogliamo far partire Carlo, che non ha detto la parola? Sì, vai. No, no, mi ascoltavo sul tennis. Credo che, partendo dall'incontro, che avete avuto, è questa attenzione anche del CT, a questo tipo di comunicazione, a questo tipo di coltivare rapporti e parlare di calcio, già, secondo me, è una cosa molto bella. La cosa molto bella è che farà molto bene al nostro movimento, che ha assoluta necessità di essere rinvigorito. È stato un momento di trambusto negli ultimi periodi. E credo che questo allenatore abbia anche quella capacità, se verrà seguito anche dalla federazione, di essere, di creare un nuovo appeal. Ecco, perché io dico, ieri, a me ha fatto piacere, dicevo prima, Antonio, vedere tanti bambini. Però io mi aspettavo San Siro più pieno. Certamente. Cioè, sono 50-60 mila, però la nazionale a San Siro merita sempre il pienone. Quindi credo che sia un percorso che... Ma Spalletti, questa cosa qua l'ha detta subito? Cioè, ha subito parlato proprio di senso di appartenenza, rispetto, e anche nella polemica, quando c'è stato il discorso di Donna Rumma, lui ha detto, andiamo avanti. Noi sappiamo che dobbiamo trascinare, questo è nella nostra possibilità, anzi, nella nostra volontà, quello di andare nella nostra direzione, quindi trascinare tutti. E da questo punto di vista credo che è iniziato un bel percorso. Si è visto qualcosa, anche dal punto di vista del campo, non si poteva vedere tante cose, poi, l'abbiamo detto mille volte, il problema di questa nazionale sono i giocatori convocabili, come 11, come 13, 14, non lo so. Però in generale non abbiamo, quando vediamo la stossa delle nazionali, vediamo la Spagna, vediamo la Germania, che ha delle difficoltà, ma guardiamo la lista della Germania, è impressionante. Guardiamo l'Inghilterra, guardiamo il Portogallo, come facciamo ad essere dietro al Portogallo? Guardiamo tante nazionali senza guardare quelle sudamericane, perché lì cominciamo, e non possiamo rimanere in questo modo, cioè dobbiamo lavorare perché Spalletti abbia a disposizione sempre più giocatori, e siamo molto indietro. Ecco, quello che ci può salvare è quello che dobbiamo continuare dall'era Mancini, diciamo, all'europeo, è il gioco, la proposta. E da questo punto di vista credo che, insomma, l'allenatore è quello giusto. È quello giusto. Secondo me è il migliore che può esserci per questa doppia peculiarità che lo rendono unico, che è una chiarezza comunicativa, un'espressione valoriale e calcistica che toglie alibi, che fa cultura, che penetra, che arrivo a dirti una cosa forte, elimina quasi la necessità di domande. Cioè, a Spalletti non hai bisogno di fargli domande, bisogna dirgli, dici tu, lui può fare 40 minuti senza domande che ti spiega come stanno le cose, te le spiega. Poi, se tu vai per alcuni dettagli, per alcuni dubbi, per alcune spiegazioni sulle scelte, sulle rotazioni, lui vai tranquillo che te le dici tutti. Cioè, lui ti spiega perché ha preparato così, allenato così, ha fatto questa ricerca, ha fatto queste esercitazioni. Io oggi, per esempio, due o tre cose glielo ho chieste, per esempio una cosa che mi preme molto a me è il tempo, che è diverso, no? Tu non hai il tempo del club. Lui dice tanti video, tante analisi video, analisi video, video che arrivano direttamente sui giocatori. Abbiamo gli strumenti per arrivare a... Per arrivare e implementare il lavoro con una capacità di arrivare e dare le percezioni e gli strumenti ai calciatori, di sapere con chi giocano, chi sono i suoi avversari diretti, come si schiera una squadra, come si schiera l'altra. Quindi lui e il suo gruppo di lavoro è totalmente il migliore come preparazione, come comunicazione e come conoscenze e come ricerca. E come ricerca. Perché è la strada migliore. Ed è proprio quella perfetta. Perché? Perché se Mancini ha creato una rottura, dando uno stile, portando a vincere una squadra inferiore, attraverso uno stile, ora qua ci stabilizziamo al massimo livello. Cioè, da un punto di vista della guida tecnica, non si può chiedere di meglio. Quindi a questo punto bisogna andare sul reclutamento, che è per forza modesto rispetto alle possibilità e alla nostra storia. Non è che ce lo inventiamo. La seconda cosa è... Questi calciatori, questi calciatori devono essere veramente... Io dico anche, non solo allenati, ma anche, tra virgolette, educati. E adesso la spiego questa cosa qua. Perché guarda caso, ai tempi di Antonio, ai miei tempi, e anche dieci anni prima, c'era più qualità, diciamo così, ma c'era anche uno spessore umano più alto. E non parlo di umanità inteso come solo valori. Io parlo di saper decidere, prendersi le responsabilità, avere in campo attributi, saper gestire anche il peso della maglia azzurra, che c'ha quattro stelle. Cioè, il peso della convocazione, che tu potevi essere, tra virgolette, contro la San Martineso, contro il Brasile, sanguinavamo noi d'azzurro. Non ci permettavamo di mettere in discussione la maglia azzurra per una partita che c'è fra 15 giorni. No! Anzi, litigavamo con i club. Fermo un attimo, io sono in nazionale. La nazionale viene a prima di tutti. Allora, il peso che avevamo noi, ok, non c'è adesso, ragazzi. Non c'è. Non c'è. E vado nello specifico. Dato che ho sentito gente in malafede, poco preparata, subito alludere al fatto che quando c'era Mancini c'erano solo infortuni diplomatici e con Spalletti no, io ho visto diverse persone andare a casa anche con Spalletti, ma non ho visto quei falsi, falsi e accusatori chiedere scusa e farmi a colpa. Allora, il punto non è Mancini o Spalletti, se si vuole essere onesti. è che si sente meno la maglia, si difende meno, c'è meno interesse anche dei club a proteggerla. Quindi, in questa cosa anche lui avrà un bel da fare. Perché? Perché sono cambiate le generazioni. Sono cambiate le generazioni. Noi, noi, lo raccontavo io, Antonio, Antonio, quando hai fatto te la prima, Anto? Sul 2004? 2002. 2002. 2002. invece ci sono stato dal 2000 al 2004 in nazionale, no? Quindi io, quando vengo chiamato dal Trap nel 2000 e faccio, diciamo, e comincio a fare più convocazioni, le prime volte arrivava la telefonata o il messaggio, le ultime volte la convocazione, io sai come la vedevo? Al sabato pomeriggio alle 6 dal televideo. Io vedevo il televideo, arrivavano, venivano fuori portieri, difensori, delle volte c'ero e dice, oh cazzo, non mi ha detto niente nessuno, però sono convocato e delle volte dicevo, sto giro non ci sono, ma, eh, il cuore batteva eppure avevi già 28-30 anni, cioè, eppure stavi male. Adesso io non, cioè, uno ci può star male se non va, ma, io vedo tanti però che vanno e che se c'è un problema tornano. Io questo è quello che vedo, Mancini con spalletti, visto che qualche d'uno ha accusato questo ma non ha chiesto scusa per le accuse infondate. Allora, in questa cosa qua secondo me bisogna un po' educare questo, bisogna lavorare sui calciatori, quelli che ci sono e poi andiamo a parlarne e in più la verità l'hai detta anche te perché una volta San Siro aspettava la Nazionale Azzurra, l'Olimpico aspettava la Nazionale Azzurra, si arrivava, c'erano 75.000, c'erano 75.000, io a San Siro ho giocato con la Nazionale contro l'Uruguay e sembra la finale di Coppa del Mondo, abbiamo fatto 1-1 con la partita lì, adesso c'è anche la predisposizione a incentivare per far entrare si potrebbe fare meglio anche da quel punto di vista e io però vedo che non c'è non c'è più questo trasporto, però Carlo noi due anni fa siamo stati campioni d'Europa però questa cosa di Spalletti mi piace perché dice ci sono io, ci siamo noi come gruppo trasciniamo noi, ci prendiamo la responsabilità, vogliamo noi riempirlo, non cerca scuse no, non cerca scuse ma perché sa comunicare e soprattutto sa quello che vuole c'è un chef c'è un chef